Amici di Telea1, ci troviamo quest'oggi in contrada cannata nel cuore di Corigliano Scalo, appunto area urbana di Corigliano della terza città della Calabria. Non solo disagi, non solo problematiche, quest'oggi la nostra emittente solleva una situazione in divenire dagli aspetti certamente positivi, così come annunciato a mezzo social dal sindaco della città Flavio Stasi e come appunto tutti quanti, i cittadini, gli automobilisti pedoni possono già vedere da qualche settimana a questa parte, sono in corso qui in contrada cannata, ai più noto come zona del Gallo d'Oro, storico quartiere di Corigliano Scalo, dei lavori per la realizzazione di una rotatoria. Certamente un'opera pubblica importante per rendere più celere, più efficace la circolazione stradale. Si invocava appunto la realizzazione di questa rotatoria perché come tutti sappiamo Corigliano Scalo è decongestionato dal traffico, si creano ogni giorno ingorghi quasi a tutte le ore del giorno, non tanto su via nazionale, ma soprattutto su via Fontanelle dove a breve la situazione è destinata a peggiorare con l'apertura lunedì delle scuole, appunto con l'inizio del nuovo anno scolastico e soprattutto appunto qui in zona Gallo d'Oro, quindi quartiere Madonna della Catena e Limitrofe. Lo stesso sindaco ha annunciato contemporaneamente ai lavori di realizzazione della rotatoria, anche alcune demolizioni che sono previste da parte dei competenti uffici comunali, nonché appunto la realizzazione di alcune panchine di sosta, quindi per coniugare la sicurezza, la fluidità, la circolazione stradale anche con quello che è il riappropriarsi dei luoghi da parte della cittadinanza. Contemporaneamente a quest'opera pubblica, della quale appunto si evidenzia l'indubbia utilità e quindi si esprime il plauso, ci preme ricordare anche quali sono le altre rotatorie che insistono sul territorio comunale. Una di recente, molto utile, è stata realizzata dalle competenti autorità sulla statale 106 all'altezza di Fabrizio Piccolo, anche questa molto importante, del quale adesso più cittadini e noi con loro invochiamo la messa in sicurezza, quindi a dimora con il sistema di illuminazione che deve entrare in funzione per rendere più efficace quella rotatoria. E poi ancora di quali altre rotatorie ha bisogno l'area urbana di Corigliano? E' un coro unanime, anzitutto una rotatoria incontrata a Santa Lucia, appunto sappiamo benissimo la pericolosità della zona, l'impianto semaforico, la grande circolazione stradale perché appunto collega lo scalo di Corigliano con la 106 e con il resto del comprensorio e poi anche da più parti si invoca la realizzazione di una rotatoria sulla stessa statale 106 perché adesso sia per la presenza del centro commerciale sia per la presenza anche di nuove attività soprattutto frequentate da giovanissimi che riguardano il settore della ristorazione ma non solo, è aumentata in maniera esponenziale ancora di più la circolazione su quella che è ai noi conosciuta come statale della morte. Dunque concludiamo con questo nostro punto sulle rotatorie, benvenga la rotatoria di Contrada Cannata fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Corigliano Rossano per alleviare le difficoltà del traffico in città e soprattutto auspichiamo anche l'intervento e la realizzazione di queste altre rotatorie per la messa in sicurezza dell'intera comunità.